Benvenuti a tutti sulla pagina Facebook di Sorrisi e Canzoni, benvenuta Cristina Scabia. Grazie, ma siamo in diretta? Sì, siamo in diretta. Oddio! Oddio! Quindi devo stare attenta a quello che dico, niente parolacce. Allora, tu sei qui perché sei la rivelazione di The Voice of Italy di quest'anno, della nuova edizione del talent show di Rai 2. È un nostro piacere averti qui, vogliamo scoprire un po' di cose di te e di quello che abbiamo visto e soprattutto di quello che non abbiamo visto durante le prime puntate dello show. Innanzitutto volevo chiederti una cosa, ti stai divertendo o no? Mi sto divertendo come una matta, è una cosa completamente nuova per me perché è la prima esperienza televisiva che faccio in Italia perché comunque mi è capitato di partecipare con il lacuna coil a trasmissioni, all'estero, a livello di ospitate, ma non avrei mai pensato neanche in un milione di anni di poter diventare uno dei coach di The Voice in Italia. È pazzesca questa cosa, mi sto veramente divertendo tanto, vado d'accordissimo con gli altri coach, anche con i ragazzi del mio team, c'è un'intesa incredibile, proprio una bella esperienza. Senti, quando incontri questi ragazzi che cercano di sfondare il mondo della musica, ti ricordi di quando eri, di quando iniziato, diciamo, prima ancora del lacuna coil, tu hai fatto comunque un po' di questo tipo di cose, facevi la vocalist, facevi i cori, no? Sì, mi ha riportato indietro nel tempo perché comunque rivedo me stessa, come hai detto tu, agli inizi, le aspettative, i sogni, i desideri di fare qualcosa nel mondo della musica. È una cosa molto bella perché, insomma, si rinfresca l'entusiasmo, anche se sono fortunata perché mi piace ancora molto quello che faccio, ma questa cosa mi ha portato davvero tanto, proprio a livello emotivo, mi ha fatto capire ancora una volta perché faccio questa professione che è diventata un lavoro per me e che amo da morire. Questa è la tua prima vera esperienza in tv, tu hai fatto una cosa molto piccola qualche anno fa su Rock TV in cui facevi delle ricette, una cosa leggendaria. Sì, ma anche quella, guarda, perché non abbiamo tempo di raccontarlo, in realtà, in realtà quello non è neanche stato, è stata una finta puntata pilota. Era un pilot. In cui io e Andy dei Blue Vertigo, che siamo amici, partecipammo come ospiti ad una puntata in cui dovevamo veramente fare gli ospiti che parlavano di musica e che potevano parlare di qualunque cosa e abbiamo detto facciamo qualcosa di diverso e quindi ci siamo inventati questa finta puntata come se fosse uno show di cucina. Introvabile. Sì, mi ricordo che proprio io avevo tirato giù un tutorial di come tagliare una mela e farla a forma di cigno, lui aveva portato un aggeggio per tritare le cose e tra l'altro mi ricordo che avevamo aperto una bottiglia di vino, l'avevamo bevuta prima di andare in onda, quindi è stata proprio una puntata assurda e si è moltiplicata la voce che insomma era una puntata pilota di uno show di cucina. Invece questo è, insomma, qui siamo su tutt'altro livello, c'era qualcosa che ti spaventava alla vigilia, in generale com'è stata l'esperienza di trovarsi, diciamo, di fronte alle telecamere? Ricordo che quando parlai con gli autori, dopo essermi ripresa, dopo essere svenuta, dopo la richiesta di partecipare a una cosa del genere, ho messo subito in chiaro che la cosa principale per me era di voler uscire come sono nella realtà. Non avendo mai avuto fatto questo tipo di esperienza, secondo me la cosa migliore era essere me stessa, perché non avrei rischiato di apparire come qualcosa di strano, di indefinito. Allora ho detto, guardate, io non voglio autori, voglio decidere io come vestirmi, truccarmi, quello che devo dire, e poi ho la valo a spacca, nel senso che io comunque sono così anche nella realtà, voglio uscire per come sono. E sono contenta perché insomma dai commenti che ricevo, dai messaggi che ricevo, è uscita questa cosa vera di me e mi piace molto questa cosa. Che tipo di accoglienza hai avuto in Italia, soprattutto da quelli che non ti conoscevano finora? Cioè hai avuto un po' di feedback da parte del pubblico, della gente? Adesso non so se in questo periodo tu sai se sei in Italia, se stai girando per strada e la gente ti ferma per strada. Sì, no, allora, vabbè, c'è da dire che ovviamente c'è stata molta più attenzione nei miei confronti data l'esposizione televisiva, quindi molti non mi conoscevano e lo mettevo già in conto perché comunque la musica rock metal non è poi così conosciuta in Italia e noi abbiamo avuto un percorso un po' all'inverso perché comunque i lacuna coil sono diventati popolari all'estero prima di affacciarsi un po' di più sull'Italia, quindi il nostro percorso è andato al contrario. Quindi un sacco di attenzione, tanti che si chiedevano, ma chi è Cristina, ma perché là, in che veste si è trovata in quella posizione? Anche critiche che ovviamente mi aspettavo. Da parte dei tuoi fan? No, da parte non dei miei fan perché hanno sempre capito la mia voglia comunque di provare qualcosa di nuovo, di provare nuove esperienze per arricchire proprio il mio bagaglio personale, ma anche da persone che ovviamente non mi conoscevano, che magari erano contrariate solo dal semplice fatto che non ci fosse un personaggio più famoso nella giuria di The Voice perché non conoscevano il mio percorso e non sapevano cosa avrei potuto portare. Quindi insomma un po' di critiche come è normale in queste situazioni, tanti complimenti. Ho scoperto di piacere tanto ai bambini, che è una cosa che mi stupisce e che non mi era mai successo prima. L'altro giorno ero in metropolitana e a un certo punto ho sentito, ma quella è Cristina? Mi sono girata ed erano due bambini che avranno avuto 6-7 anni, un maschio e una femmina con la mamma e mi sono girata e ho detto, eh? Perché non mi era mai capitata una cosa del genere? Forse per come faccio i capelli ha ispirato simpatia perché sembra un po' un personaggio dei fumetti. Dei fumetti, dei cartoni. Questa è una cosa che tu hai sottolineato anche in un altro intervisto, ho lettoci il fatto che il fatto che tu ascolti e suoni un determinato tipo di musica non ti etichetta al 100%, non sei un tipo di, magari delle persone che non ti conoscevano davano per scontato che tu fossi un tipo di persona particolare. Ma certo, ma bisogna sempre guardare oltre. Io sono convinta che in tutte le cose la superficie va ammirata, va studiata, ma bisogna sempre andare oltre. Questa è una cosa alla quale tenevo molto, volevo sdoganare questa cosa che chi ascolta metal, chi ascolta rock è una persona cattiva, è una persona da evitare, violenta, a cui piace ascoltare e fare rumore. In realtà non è assolutamente così perché mai in questo periodo ho ascoltato delle persone che da fuori non si sarebbe mai detto avessero ascoltato metal che mi hanno detto, cavoli, ma ci piacciono un sacco voi, ma ci piacciono anche gruppi molto più estremi di noi e non si sarebbe mai detto. E adesso stanno spuntando, si vede che è tempo anche per l'Italia di accogliere questo genere che è amato e rispettato in tutto il mondo. Volevo chiederti se ti sei rivisto in tv le puntate, in diretta, cioè hai fatto una sessione in cui ti sei messa lì con gli amici a riguardare? No, con gli amici no, le ho guardate tutte da sola, soprattutto la prima, soprattutto la prima ero... la prima, vabbè, a parte che quando è andata in onda la prima puntata, al mattino dopo sarei dovuta partire prestissimo per un concerto e quindi volevo essere comunque a casa per andare a letto subito dopo la puntata da brava anziana, professionista che vuole riposarsi prima di lavorare. ed ero ovviamente un po' tesa, ho detto no, la voglio vedere da sola, non voglio amici che mi dicono guardati, wow, guarda come sei, ma questo... ho detto no, la voglio guardare, voglio osservarmi e vedere davvero da fuori come sono, come vengo in televisione, quindi è stato curioso perché insomma già non mi piace rivedermi nei concerti, non mi piace di ascoltarmi nei dischi, però una cosa mia, guardarmi in televisione è stato ancora più strano e ovviamente sentire il telefono, beep beep beep... c'è po' 150 notifiche di messaggi. Ti ho visto, ecco, ti ho visto e hai fatto questo, lo so che ho fatto questo, l'ho fatto e io l'ho puntata. È stato molto strano. Beh, alla fine che giudizio ti dai? Dar giudice, diciamo. Ma allora mi do il giudizio di una persona appunto come dicevo prima molto empatica, io scelgo sempre in tutto e per tutto col cuore, con le sensazioni di stomaco, che sia giusto o sbagliato penso che sia la cosa più giusta perché nessuno più di noi stessi ci conosce. E quindi anche quando sentivo una voce cercavo sempre di scegliere qualcuno che mi emozionasse in un modo o nell'altro, non per forza per la tecnica vocale. Molto spesso la cosa che ho notato è che da casa tanti giudicano un cantante solamente per la tecnica. Quindi anche in alcuni casi quando nessuno dei giudici si è girato ho visto dei commenti, ah ma nessun giudice si è girato allora c'è la fregatura. In realtà parte che l'audio è completamente diverso in studio. Noi dobbiamo girarci per qualcuno che ci comunica qualcosa perché saper cantare e basta non è abbastanza perché di cantanti bravi ce ne sono tanti. I cantanti invece quelli che vanno avanti sono quelli che sanno emozionare, che sanno comunicare, che dalla voce fanno capire che sono lì a cantare perché amano cantare. Non perché sono lì a fare l'esposizione della voce, perché hanno preso più lezioni degli altri, perché provano a casa per dieci ore al giorno. Tanti cantanti non hanno neanche mai preso una lezione in vita loro, però aprono la bocca e dicono, oh madonna, oddio, cos'è questa cosa bellissima. Questa è una cosa che hai detto in trasmissione, mi sembra, cioè il fatto che ti sei girata perché hai sentito che magari uno non era perfetto nella sua esecuzione, ma avevi capito che è uno che suona per passione. Sì, per me la perfezione non è assolutamente necessaria, l'emozione è ben più importante, molto più importante. Scusatemi un attimo, vi interrompo perché ci sono un sacco di saluti, soprattutto in lingua spagnola. Tutti i miei amici sudamericani. Messicani tanti anche, che chiedono un saluto se puoi farlo in spagnolo intanto, se lo sai fare. Oddio, sai che lo spagnolo purtroppo lo capisco, ma... E poi dopo li invitiamo a fare un po' di domande per te se dopo le vorrei rispondere. Volentieri, volentieri. A voi. Hello to everyone from South America, everyone speaking in Spanish, English, who's watching us now. We're speaking Italian because we're in Italy. Ok. Parliamo dei tuoi colleghi. Sì. C'è qualcuno di loro con cui ti sei trovata particolarmente bene o che ti ha sorpreso positivamente? Guarda, la realtà è che ci siamo trovati benissimo tra di noi, ma senza nessun problema. L'unico che mi intimoriva un po' di più era Albano, perché Axe lo conoscevo veramente da decenni, ci conosciamo forse da trent'anni, dagli anni novanta proprio io e lui ci conosciamo da tanto tanto tempo. E quindi non avevo nessun timore, diciamo, di lavorare con lui, anzi ero contenta di ritrovarlo. Ma voi vi conoscevate perché? Ci conoscevamo perché comunque mio fratello ha un negozio di abbigliamento hip hop e quindi lui aveva lavorato un po' con mio fratello. Però non avevate mai fatto niente insieme? No, no, però mi ricordo che era anche venuto a casa mia, c'eravamo già conosciuti ancora poco prima che iniziassero l'articolo 31. Quel periodo lì l'ho conosciuto. Francesco aveva comunque avuto in passato un'anima rock con i Timoria e quindi anche lì cascavo sul morbido. L'unico che mi intimoriva era Albano, perché comunque Albano, personaggio comunque così grande, conosciuto, da fuori sembra molto spigoloso, quindi non sapevo come fosse, visto che io sono una che vuole dare del tuo a tutti, abbraccio, bacio, sono molto fisica nell'approccio. Ho detto chissà che tipo di persona mi troverò davanti e invece mi ha stupito, mi sono innamorata in tempo zero perché è gentilissimo, saluta sempre, è educatissimo ed è divertentissimo perché comunque è forse il più moderno di tutti noi. Non si stancava mai anche in giornate in cui noi eravamo stravolti e lui era lì come se fosse in piedi da cinque minuti. Quindi mi è piaciuto tantissimo anche lui e ci siamo trovati davvero bene. Più o meno quanto durava una giornata di una sessione di registrazione? Dipende perché le sessioni quelle di registrazione per le blind audition duravano anche sette ore, anche sei, sette ore. Poi a volte eravamo lì anche dalla mattina per poi iniziare a registrare l'otto di sera, andare avanti magari fino alle due, tre di notte. Però sì, direi dalle cinque, cinque, sette ore. Io so che tu me l'hai già anticipato ma lo sapevo, e voi siete un po' più avanti di quello che abbiamo visto noi perché comunque la finale... Ma non vi spoilerò niente! Ecco, lei non ci racconterà niente, nessuno straccio di anticipazioni per carità. Però al finale è l'otto maggio, però voi knock out... Dieci. Dieci maggio. Knock out e la battle l'avete già fatte. Sì. Volevo chiederti una cosa, parlando solo di quelli che hai trovato finora, quindi tu hai dodici. Sì. Senza fare nomi, c'è qualcuno di cui ti sei pentita che non tanto che ti sei girata l'hai visto e hai detto no con questo look non vado da nessuna parte ma che... Ma pentita in che senso? Pentita che hai detto accidenti mi sono trovato in squadra questa sola. Ma allora, c'è da dire una cosa, ovviamente è inutile dire che non ci siano quelli più bravi e meno bravi. Anche nel caso di quelli che secondo me erano un po' meno bravi, ho cercato di scegliere in base a una sensazione. Quindi se comunque percepivo che non erano eccezionali, magari trovavo quel qualcosa che comunque me li faceva piacere. E poi non dimenticare che comunque noi avremmo dovuto avere dodici persone nel nostro team, come poi abbiamo scelto, che non sono poche. E quando ci si trova anche un po' indietro rispetto agli altri giudici, devi fare un po' di calcoli perché dici ok io allora devo registrare le tot puntate, devo prendere una media di talenti al giorno perché se no rimango alla fine che non ho nessuno. E quindi si faceva anche un po' questo tipo di ragionamento. Poi penso che inconsciamente un po' si tenda anche a scegliere qualcuno che magari non è eccezionale perché poi sai che in qualche modo sarà più facile lasciare indietro qualcuno. Credo che inconsciamente si faccia questa cosa ma in realtà poi mi sono affezionata a tutti e ho trovato delle cose meravigliose in ognuno di loro. Che vedremo? E non posso neanche chiederti chi è praticamente bravo perché la 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 la. Scusate ma intanto subito lanciano la proposta, fai un singolo con Albano, metal ovviamente. Guarda allora, adesso chiariamo questa cosa visto che siamo in diretta. Io dalla prima puntata che mi sto battendo ho detto secondo me Albano dovrebbe cantare una canzone metal perché lui ha la voce perfetta, perfetta per il metal. Ci sono tanti cantanti che hanno fatto canzoni con la voce somigliante a quella di Albano ma neanche abbastanza potente come la sua, pulita. E quindi è dalla prima puntata, ancora prima, quando si è preparato il tutto che ho insistito su questa cosa. Il problema è che non si sa mai come far rientrare questa cosa all'interno del programma perché comunque ci sono un sacco di cose, ci sono i talenti che si devono esibire, i parenti che danno la loro opinione, Costantino che introduce, che fa gli scherzi, che fa una cosa e l'altra più noi giudici. C'è addirittura una pagina in cui si può firmare per richiedere Albano che canti una canzone. Cioè ci sono proprio i fan da casa che stanno aspettando questo momento. Quindi non è colpa mia, io ho provato di tutto. E anche Albano mi ha detto che gli sarebbe anche piaciuto fare questa cosa. Non siamo ancora riusciti, faremo un fuori onda solo per voi. A proposito di esibizioni, se non sbaglio adesso mi sembra di aver visto quasi tutto. Tu hai fatto sentire la tua voce all'inizio della prima puntata. Avete fatto questo strano brano tutti insieme che non si capiva bene se era in diretta. Sì, non si capisce mai niente perché abbiamo quattro voci così diverse. Era un po' un pasticciotto, però era bello perché era assurdo sentirvi voi quattro cantare e rappare insieme. Mi sembra che tu ti sia un po' trattenuta per quanto riguarda far sentire la tua voce nelle puntate. Rispetto ad Albano che ogni cinque minuti lo senti che parte con i suoi vocalisti. Ma tu parli delle registrazioni? Io parlo delle blind, quello che si è visto in tv. Delle blind. Ti vedremo nelle prossime puntate cantare un po' di più? No, cantiamo un po' di più, però diciamo che un'altra cosa che mi ero detta è che volevo entrare un po' in punta di piedi. Non volevo entrare e subito fare la sborona, come diciamo qua. E neanche penso di essere meglio degli altri cantanti lungi da me. Quindi semplicemente se non l'ho fatto è perché in alcuni casi non mi veniva assolutamente. L'ho fatto solo nei momenti in cui mi è venuto naturale o nei momenti in cui abbiamo interagito tutti e quattro. Infatti ci saranno delle parti in cui canteremo tutti e quattro e ci sarà ancora più da ridere perché canteremo le parti degli altri. Sarà molto simpatico. Probabilmente è un casino ma sarà simpatico. Bello, bello. Ma c'è qualcosa invece che... Appunto tu mi hai detto che si parla di sessioni di 5-6 ore lunghissime. Noi abbiamo visto una specie di montaggio fatto ad arte del meglio di quello che è successo. C'è qualcosa che tu sai che è successo e non abbiamo visto, che ci siamo persi e non vedremo mai? Eh, quello non lo so perché ci sono ancora molte puntate che... Io parlo di quello che abbiamo visto finora. Di quello che avete visto finora no, anzi c'è qualcosa che noi non abbiamo visto. Per esempio il ragazzo che ha lanciato la chitarra, noi giudici non ci eravamo accorti di niente. Abbiamo sentito il rumore, io ho pensato che fosse venuto giù un pezzo di palco. Abbiamo sentito questo rumore, ci siamo girati ma abbiamo saputo solo poco dopo quello che era successo. E la cosa sinceramente mi ha fatto girare molto le balle perché io capisco il nervoso, capisco il nervoso di vedere che nessun giudice si gira, però non lo trovo giusto. A parte il fatto che un musicista non lancierebbe mai una chitarra perché comunque lo strumento è qualcosa comunque da rispettare e sicuramente non ce la si deve prendere con lo strumento. E in secondo luogo mi sono incazzata tantissimo perché la chitarra era finita dalla parte dell'orchestra e verso una zona in cui c'erano anche dei disabili perché era più comodo per loro guardare la puntata. E quindi io penso che se mi avessero detto che era successa questa cosa io mi sarei alzata e mi sarei incazzata da morire. Quindi meno male che non ce l'hanno detto perché purtroppo sono anche molto sanguigna su queste cose e probabilmente avrebbero tagliato ancora di più dalla puntata. Sì, anche perché abbiamo visto quasi un centinaio di persone che si sono esibite per voi e abbiamo visto reazioni di tutti i tipi. Poi conta che oltre a quello ci sono anche le registrazioni dei confessionali, degli speciali. Quindi comunque per noi è stato impegnativo, divertente perché mi è piaciuto tutto ma è stato anche molto impegnativo. Ma l'idea di andare in diretta ti fa più effetto rispetto a registrazioni? Cioè sei terrorizzata a morte oppure? Ma io sono abituata alle dirette. Poi devo dire che lì le telecamere non si vedono nel senso che c'è una Stedi che ti segue di tanto in tanto ma tutte le altre telecamere sono posizionate nello studio. Quindi per me sarà come fare un concerto o una serata tra amici. Quello che mi spaventa magari sono le tempistiche nel senso che so che ovviamente dobbiamo stare all'interno di un determinato lasso di tempo e lì ce la dobbiamo un po' giocare. Speriamo che vada tutto bene e se ci chiamo qualcosa che insomma riprendiamo bene, ripartiamo non facendo accorgere nessuno. I tuoi impegni invece per quanto riguarda la tua band, la Kuna Coil, cioè tu non è che hai fermato tutto per fare questa cosa qua, immagino che tu ne abbia parecchi di impegni. Come hai fatto a conciliare la cosa? Allora abbiamo ovviamente nel momento in cui mi hanno chiesto di partecipare alla trasmissione io ne ho parlato con i ragazzi per vedere se anche loro erano insomma d'accordo nel fare questa cosa. Allora abbiamo stabilito di interrompere per un po' l'attività live perché comunque nel retrovie noi stiamo preparando comunque un libro per il ventennale, un libro fotografico con la storia della Kuna Coil, con cose che non abbiamo mai detto prima. E stiamo preparando un DVD dello show celebrativo del ventennale che abbiamo fatto a Londra il 19 di gennaio che uscirà attorno a novembre. Quindi comunque nelle retrovie si lavora lo stesso, poi abbiamo fatto un concerto due giorni fa, praticamente due o tre giorni fa in Olanda e suoneremo all'1 maggio a Taranto. Abbiamo un'altra data al 31, adesso non mi ricordo esattamente dove, abbiamo comunque diverse date già stabilite, tante all'estero quest'estate e anche tante date che annunceremo in futuro. Quindi proprio non ci fermiamo come al solito, abbiamo preso una piccola pausa. Aspetta, ci sono fan di Taranto che ci chiedono apposta come mai avete scelto di andare a suonare al primo maggio a Taranto e non altri live, perché proprio quel live avete scelto? Perché è una manifestazione importante, ci hanno invitato e ci fa piacere esserci. Poi noi non siamo molto spesso in quelle zone, quindi ci faceva davvero piacere finalmente andarci. E ti aspetti che ci sarà un pubblico, il vostro pubblico adesso a vedervi in Italia oppure un pubblico un pochino diverso? Ma non mi aspetto niente, perché noi abbiamo la mentalità da gruppo classico che vuole andare sul palco perché è così, perché è quello che ci piace fare, perché è lì che ci divertiamo, perché ci sentiamo in famiglia. Perché lo fate da tante. Quindi non saliamo sul palco pensando al tipo di pubblico che ci verrà a vedere, anche perché abbiamo notato che molti che magari non ci conoscevano sono rimasti stupiti dal nostro show proprio perché a tratti è uno show inusuale, nel senso che comunque abbiamo un look particolare, adesso addirittura utilizziamo anche proprio dei trucchi particolari, anche con del sangue finto. È molto forte come look rispetto a molti artisti, però esiste anche quello, per noi è molto importante l'aspetto visivo, noi siamo grandi fan dei film dell'orrore, di tutto questo tipo di immagine. E ci piace vedere che crea molta curiosità, poi può piacere o può non piacere come tutti i generi musicali, come tutti gli artisti insomma. E i ragazzi della band, come hanno commentato la tua vettura televisiva? Ridevo da matti perché ovviamente le puntate, come abbiamo detto prima, sono registrate a parte la finale, ma ad ogni puntata che ho visto il nostro bassista Marco, Maki, mi mandava il messaggio Basta piangere, basta, smettila, ecco stai per piangere, no non stai per piangere, ma si vede che stai per piangere. Mi prendeva molto in giro per questa cosa perché appunto sono molto empatica e mi si legge tutto in faccia, quello che sto provando. Non ho modo di nasconderlo, non ce la faccio, non sono mai stata così e quindi mi prendeva in giro per questa cosa. Benissimo, allora mi hanno fatto ceni della regia che abbiamo quasi finito. Volevo farti gli auguri appunto per i vent'anni della Cuna Coil che ho visto il primo EP uscito dieci giorni fa, vent'anni fa. Quindi siamo in questi giorni. Il primo EP non era uscito a gennaio. Io ho letto a prima, ma non. Mi ricordavo a gennaio. Però comunque sono vent'anni. Però magari mi ricordo male, sono passati solo vent'anni. Ma sì. Magari mi ricordo male. Invece album nuovo di Inedity state scrivendo qualcosa? Sono passati due anni dall'ultimo album. Stiamo collezionando idee, però la nostra intenzione è iniziare a concentrarci seriamente attorno a diciamo settembre. Perché vogliamo fare tutte le date estive e poi io dopo questa esperienza voglio un po' decomprimermi. Perché ovviamente loro hanno fatto altro, ma questa cosa mi ha un po' sballottata. Quindi vorrei un attimino anche io tirare un po' il fiato e nel frattempo collezioniamo idee. Perché comunque adesso con i computer è facile. Uno può buttare giù qualcosa che gli viene in mente e poi lo può confrontare con gli altri. Allora niente, invitiamo tutti quelli che ci hanno visto e che magari ti hanno conosciuto solo in questo periodo ad andare a provare a vedere un live dei Lacuna Soil. Assolutamente, soprattutto adesso che ne abbiamo qualcuno in Italia. Un'esperienza abbastanza sorprendente. Grazie a voi, grazie di averci seguito e mi raccomando giovedì con The Voice. Senza parole.